Miau! 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 Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Cronache Bestiali, la nostra rubrica è interamente dedicata al mondo degli animali. Come sempre parleremo della salute dei nostri amici a quattro zampe, di alimentazione, di educazione ed infine conosceremo la storia di un amico a quattro zampe in cerca di famiglia. Siamo nuovamente in compagnia della dottor Martini per parlare della salute dei nostri amici a quattro zampe. Oggi ci occupiamo delle processionarie, nello specifico insomma del pericolo di questo tipo di animale. Ecco, innanzitutto cosa sono? Allora, le processionarie sono dei bruchi, dei bruchi che poi daranno vita a un tipo particolare di farfalla. Sono dei bruchi che normalmente nascono sopra i pini e quindi formano questi gomitoli di bruchi messi insieme tra di loro e si possono vedere anche proprio in questa stagione attaccati ai rami dei pini. Sono dei gomitoli bianchi, cotonosi, al cui interno appunto si trovano i bruchi. E questi poi con la stagione calda escono da questo nido e scendendo giù tramite il tronco arrivano a terra. E in quale periodo dobbiamo fare attenzione alle processionarie? Sono questi, quindi in mese di aprile, maggio, fino all'inizio dell'estate, proprio perché è il momento in cui i bruchi escono dal nido e si trovano nel terreno spesso e possono entrare a contatto con i nostri animali. In particolare i cani che sono gli animali più curiosi e che amano annusare in terra e spesso anche mettere in bocca quello che trovano in terra. Cosa possiamo fare per evitare il contatto? Evitare il contatto bisogna fare una prevenzione quando i bruchi sono ancora nel nido. Quindi esistono varie tecniche, ci sono anche dei professionisti specializzati nel abbattere i nidi che si trovano ancora sugli alberi. Le tecniche sono varie, si può usare dei proiettili che servono a fare cadere il nido, si possono incendiare questi nidi. L'importante è eliminare la processionaria quando ancora si trova attaccata all'albero perché poi una volta che sono in terra sono incontrollabili. Ecco, nel caso in cui il nostro cane o il nostro gatto dovesse entrare a contatto con la processionaria cosa si può fare? Cosa succede nel cane o nel gatto? Allora, è una patologia purtroppo piuttosto pericolosa perché la processionaria, i peli della processionaria hanno delle sostanze altamente orticanti e caustiche, quindi quando l'animale mette in bocca il bruco questo crea una reazione che porta a morte i tessuti con cui il bruco è venuto a contatto e in particolare i danni maggiori si hanno a livello della lingua e poi se le processionari vengono ingoiate a livello dell'esofago, poi una volta arrivata nello stomaco la processionaria muore perché gli acidi gastrici riescono a disintegrare tutto, però i danni a livello di lingua e esofago possono essere molto gravi, in particolare ci possono essere delle porzioni di lingua che vanno proprio in necosi, quindi muoiono e cadono, quindi l'animale si trova con pezzi di lingua mancanti e se questa porzione di lingua che va a morire è molto estesa, l'animale può essere impossibilitato a bere e a nutrirsi, quindi possiamo essere costretti addirittura a batterlo perché è impossibile che l'animale si alimenti naturalmente. Quello che va fatto è innanzitutto se l'animale viene a contatto con la processionaria sciacquare, quindi usare tanta acqua con una siringua, sciacquare la bocca, la lingua, meglio se riusciamo a metterci anche un po' di bicarbonato che contrasta l'acidità che si viene a creare, quindi sciacquare, 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 acqua, bicarbonato. Non bisogna assolutamente far vomitare l'animale anche perché per l'appunto una volta arrivato nello stomaco l'animale è già morto e non ha più azione dannosa e poi andare a correre dal veterinario che potrà mettere in atto terapie antinfiammatorie, antibiotiche per minimizzare i danni. Con le processionari rappresentano un pericolo sia per il cane che per il gatto? Sì, sia per il cane che per il gatto. Dicevo prima è più colpito il cane perché come atteggiamento ovviamente è un animale che è molto più propenso a mettere in bocca cose. Il gatto di solito è più guardingo, prima di ingoiare qualcosa ci pensa mille volte, la saggia con le zampe, quindi i più colpiti sono sicuramente i cani. Quindi attenzione insomma in questi mesi? Assolutamente attenzione perché appunto come dicevo prima può essere una patologia che addirittura in alcuni casi costringe l'abbattimento. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a quattro zampe, oggi parleremo di dermatite atopica con la dottoressa Caporali. Cani e gatti possono essere allergici proprio come gli uomini? Assolutamente sì, nel senso che la dermatite atopica è un'allergia nei confronti di allergeni ambientali sia dell'ambiente interno che dell'ambiente esterno ed è un po' di problema in forte espansione nei nostri amici animali così come nelle persone. Quindi è un qualche cosa che purtroppo noi dermatologi vediamo quotidianamente, la gran parte delle visite dermatologiche riguardano proprio questi pazienti affetti da dermatite atopica. A quali allergeni si sensibilizzano? Allora possono essere sia allergeni degli ambienti interni, quindi acari della polvere e questa è la causa principale di allergia nei nostri animali, sia allergeni degli ambienti esterni, quindi pollini, di graminacee, di piante, di erbe infestanti e questa allergia nei confronti di questi allergeni degli ambienti esterni è un'allergia principalmente stagionale che si manifesta in particolare in primavera e in estate, mentre l'allergia nei confronti degli acari e della polvere tende ad avere un andamento piuttosto annuale. Come posso riconoscere i sintomi di una dermatite atopica? La dermatite atopica è una malattia che si caratterizza per problemi dermatologici e in particolar modo riconducibili al forte prurito che ha l'animale. Come clinica è molto simile a quella della reazione avversa al cibo, quindi è fondamentale fare un iter corretto proprio per escludere prima un problema alimentare piuttosto che un problema ambientale. L'animale può avere otite, l'animale si gratta, quindi si gratta, si lecca, si mordicchia, quindi tutti questi segni sono espressioni di prurito. Ci può essere una piodermite importante, quindi infezioni della pelle o da batteri oppure infezioni legate alla sovraccrescita di lieviti. Come posso diagnosticare una dermatite atopica? La diagnosi è una diagnosi clinica. Prima di tutto dobbiamo escludere quelle cose che sono più alla portata del proprietario, quindi escludere un problema su base parassitaria e escludere un problema alimentare. Dopodiché nel momento in cui abbiamo escluso in maniera corretta, quindi facendo un trattamento antiparassitario adeguato e facendo una dieta ipoallergenica rigorosa, allora la diagnosi è clinica, è di dermatite atopica, ossia di dermatite ambientale. Da lì poi si può proseguire l'iter andando a fare le prove allergiche e cercando di identificare l'allergene implicato nella dermatite atopica. Esiste un vaccino contro gli allergeni che causano questa malattia? Sì, assolutamente sì. Si parla di desensibilizzazione, è la stessa cosa che viene fatta nei bambini e eventualmente nell'uomo adulto. Una volta che siamo riusciti ad identificare gli allergeni implicati nella dermatite atopica, quindi ricordo in particolar modo gli allergeni degli ambienti interni, quindi acari della polvere, eventualmente associati o no a allergeni degli ambienti esterni, una volta che li abbiamo individuati possiamo allestire un vaccino, quindi una terapia di desensibilizzazione che contiene proprio gli allergeni verso il quale l'animale ha sviluppato l'allergia. E li vengono somministrati o in iniezioni che si danno all'incirca una volta al mese oppure con delle formulazioni orali. Si tratta di una terapia naturale che vuol far spostare il sistema immunitario da una situazione di allergia ad una situazione di tolleranza, quindi non ha effetti collaterali e a mio avviso negli animali giovani è fortemente consigliata. È alle porte di Arezzo, in località Santa Anastasio, che Nikos Dog Villa già leva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osidi verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al C-Sport ed un addestatore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con l'addestramento del nostro cane. Oggi impareremo come giocarci con Simone Grotti. Ecco, da cosa partiamo? Ok, allora, partiamo dal vedere alcuni dei giochi e il loro utilizzo. Ok? Qui abbiamo due palline di gomma. Ok? Perché due palline identiche? Due identiche, due molto simili. Vabbè, una è particolare. Allora, i giochi sempre uguali. Perché? Perché il gioco è bene impostarlo sullo scambio. Ovvero, io ti lancio questa, poi ti richiamo con questa. Questa diventa bella. Consideriamo che i cani sono predatori. Ok? Quindi, se io muovo, stimolo il predatorio del cane. Muovendolo, il cane è portato a venire da me. Perché questa qui è preda morta. Questa è preda viva. Ah, questa è più interessante. E gli insegno a scambiare. Ok? Quindi l'ideale è avere dei giochi uguali. Ok? Qualunque essi siano. Sì. Questo dipende dal cane, cosa preferisce. Lui, ad esempio, adora queste palline qui. Se parliamo di palline. Questo è un po' troppo piccolo. Preferisce misure più grandi. Perché appagano meglio la bocca. Però è anche un gioco diverso. Ok? Con questo io gioco al tira e molla. Il cane è molto morbido, come potete vedere. Affonda molto i denti e quindi scarica molto. In potenza. Ok? Il morso. Questi qui, è una via di mezzo. Sono palline molto morbide. Che si usano tanto bene sui cuccioli per insegnare a direzionare la bocca. Perché il rischio qual è? Io faccio questo. Il cane prende male la mira e fa male. Ok? Io muovo. Il cane si stimola. Lancio. Il cane va. Prende. Richiamo. Ehi. Vieni. Richiamo con la palla in movimento. Ale. Come il cane sputa la pallina. Io gli do l'altra. Il cane sa bene che arriva il secondo gioco. Lui lo sa perfettamente. Ok? Quindi vado a chiedere di più. Ti vado a chiedere. Mi la devi portare qui. Con uno solo? Dopo può diventare anche con un gioco solo. La house. Ok? E questo è un modo di giocare. Io lancio e tu mi riporti. Questo qui è il gioco preferito dei predatori. Con questo come si gioca? Questo qui si gioca al tira e molla. Il cane combatte. Ok? Io lo metto. Vedi? Tira. Lavoro. È un lavoro molto fisico. Perché il molosso è un cane fisico. Ok? Molosso posso toccarlo per farlo eccitare. E il cane combatte. È un combattimento. Ci stiamo contendendo questo. Qual è l'importanza di giocare con il nostro cane e creare questo tipo di rapporto, di contatto con lui? Allora, il gioco con il cane è fondamentale. Perché attraverso il gioco il cane elabora tutti i rapporti suoi. Ok? Ok essere autorevoli, però la dobbiamo far giocare. Un'altra cosa per cui è fondamentale è che il cane scarica le tensioni della giornata, si rilassa, sfoga energia, energia accumulata. Ok? Cani cittadini che stanno... È un modo per scaricare la tensione. È come per noi fare attività fisica. Cioè noi se facciamo attività fisica viviamo meglio. Per il cane è lo stesso concetto. Però bisogna giocare bene. Perché, per esempio, un gioco come il tira e molla, deve essere un gioco che, ok, ti concedo l'oggetto, però tu me lo devi anche lasciare. Deve esserci il controllo. Cioè ogni gioco deve avere la sua obbedienza. Ok? L'obbedienza in certi termini. Ok? Non è che... Però se io adesso a lui gli lascio l'oggetto, lui fa il girettino, torna da me. Perché? Perché è con me che si gioca. Con nessun altro. Ok? Perché vuole condividere. E attraverso il gioco puoi stabilire il tuo rapporto con il cane. Rafforzarlo. Deve farlo diventare molto più profondo. Gli interi sport si basano sul gioco. Ecco, proprio uno di questi sport lo conosceremo nella prossima puntata. Inizieremo a parlare di agility. È arrivata la primavera e con l'arrivo della bella stagione torna anche l'emergenza parassiti. Ci sono varie tipologie di antiparassitari. Quali sono? Sì, buonasera. Allora, sì, proprio detto proprio la cosa giusta. Purtroppo con la primavera si iniziano purtroppo a vedere pulci, secche e soprattutto più temibili flebomi. Per quanto riguarda gli antiparassitari oggi abbiamo una vasta gamma. Diciamo siamo arrivati ad avere sia per quello che riguarda la posologia delle pipette sia gli antiparassitari e negli ultimi anni sono arrivati anche antiparassitari biologici. Per quanto riguarda tendenzialmente noi come azienda consigliamo sempre un po' la pipetta che è molto un pochino più scomoda, però interviene messa bene a livello di pelle. Il sebo della pelle trasferisce molto bene il principio attivo e si riesce a avere una copertura di 25-30 giorni con una pipetta. Usata regolarmente da diciamo da marzo, da questi periodi fino ad agosto si riesce ad avere una copertura di un 90% abbondante. Per quello che riguarda il collare il principio attivo è sempre quello, è un pochino diciamo un pochino più più economico però un pochino più scomodo perché appunto il collare insieme a un altro che ha due cani è un pochino più difficile gestirli però funzionano molto bene. Per quello che riguarda ultimamente i prodotti biologici quasi tutti sono a base di olio di neem che è un principio attivo di una pianta molto molto efficace per quanto riguarda la repellenza. Tutti gli antiparassitari noi consigliamo a parte questi, li consigliamo perché hanno dei principi attivi che riescono a tenere non al 100% ma abbastanza lontano anche la zanzara che purtroppo oggi è la maggior responsabile insieme al fleboma della lesmaniosi che purtroppo oggi è una malattia più diffusa, incurabile e più drammatica nel cane e nel gatto. Ovviamente si parla anche di pulci e di zecche. Assolutamente sì, la pulce e la zecche e purtroppo con i primi caldi vengono subito fuori. Noi consigliamo sarebbe meglio cominciare a partire prima della stagione più che altro perché in modo da non permettere sia la pulce e la zecche di fare le uova perché spesso succede che il padrone trova la pulce e la zecche attaccata, la cava, mette un antiparassitario e si crede di aver risolto il problema. Ma purtroppo se quell'animaletto è rimasto lì qualche giorno ha già depositato le uova che purtroppo l'antiparassitario normale a goccia pipetta non riesce ad eliminare, ci vuolono degli spray apposta e quindi uno dice ma ho messo la pipetta una settimana fa e dopo una settimana o due mi ritrovo ancora alla pulce a seca. Purtroppo perché si inizia un po' troppo tardi, sarebbe sempre meglio iniziare prima dell'avvento, prima che si rialzino le temperature. Ovviamente la diversità tra le varie tipologie e la posologia? Assolutamente sì, tutti i prodotti hanno come principio attivo la spirulina e hanno un altro principio attivo, tendenzialmente tutti uguali. Da prodotto a prodotto però cambia il tipo di posologia e soprattutto cambia da prodotto a prodotto anche la quantità del principio attivo inserito. Ci sono prodotti che si fermano intorno ai 2 ml e prodotti che arrivano fino a 8 ml. Ovviamente più alta sarà la concentrazione del principio attivo e più il padrone dovrà tenere conto di un range di tempo più alto che dai 25 si potrebbe spostare anche 40 giorni perché purtroppo il principio attivo combatte questi animaletti ma ha una controindicazione che non in tutti ma spesso può, è usato un po' troppo spesso perché il padrone sta in posti un po' drammatici a livello di pulce e di zecche tende a dargene una ogni per dire 20 giorni. Questo però purtroppo qualche volta causa anche dei problemi di dermatiti e anche cadute di pelo quindi sulla tempistica dei tempi consiglio a tutti di stare molto molto attento e di attenersi a quello che scrive l'azienda a cui ci affidiamo. È alle porte di Arezzo in località Sant'Anastasio che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osini verde nella campagna retina ideale per l'allegamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia con marche che non trovi da altre parti perché Etruria Pet Food per consigliarti l'alimentazione appropriata unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo in via Carlo Pisacane 65 Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197 Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197 Un educatore esperto al c-sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197 Bentornati all'appuntamento con le adozioni, oggi conosciamo un gatto, Zorba. Chi è Zorba? Sì, allora Zorba è una gattina di circa 4-5 anni, è arrivata al canile due estate fa, incinta, ha partorito 5 gattini, sono stati tutti adottati. Lei invece è rimasta qui perché quando era arrivata era molto paurosa e si faceva toccare a malapena. Ora invece si è abituata e cerca sempre di più il contatto con le persone. È molto dolce come gattina. Sì, sì, è veramente tanto affettuosa, ti segue, ti si struscia le gambe, ti chiama per avere carezze. E adatta a tutte le persone, insomma, che vogliono adottarla. Sì, assolutamente, è adatta a tutte le persone, è adatta a stare in casa perché appunto si può adattare anche a stare solo in appartamento, non per forza deve uscire e quindi cerchiamo casa. Ecco, come sempre chiunque volesse adottarla può rivolgersi a voi al canile comunale. Sì, sì, certo, uno viene qui e gli facciamo fare la scheda di un colloquio, una scheda di preadozione e poi quando la gattina è stata rivisitata dal veterinario può essere adottata. È stata sterilizzata? Sì, sì, ovviamente è sterilizzata, è stata testata, è negativa la leucemia e l'AIDS felino, vaccinata, sverminata e con l'antipulci. Ben tornati all'appuntamento con il mondo delle esposizioni canine. Oggi siamo con Masha Sinatti, presidente del club Bulldog Francesi Italia, per parlare di standard di razza. Quindi cosa sono? Allora, quando noi facciamo le verifiche zootecniche, che sono praticamente gli show che vengono fatti per la valutazione degli standard dei cani, i cani devono avere alcune caratteristiche, cioè i giudici valutano alcune caratteristiche che sono ovviamente scritte ed approvate dall'ENCI in Italia e poi dopo dall'FC in Europa. Ovviamente ogni razza di cane ha le sue caratteristiche e quindi è importantissimo studiarle, saperle, per poter portare avanti una certa selezione morfologica. In questo caso noi abbiamo i Bulldog Francesi e quindi il nostro giudice, come prima abbiamo visto, valuta certi tipi di caratteristiche che vanno dal movimento e quindi ovviamente il giudice fa partire e fa fare un giro ai cani, che è il giro iniziale, eccetera, e poi dopo per avere un'idea più precisa della morfologia e della costruzione del cane viene messo nel tavolo. Ovviamente il giudice si avvicina perché il Bulldog deve avere certe caratteristiche che partono dalla testa per finire alla coda. Quindi nella testa ci sono inserite le orecchie, quindi l'inserimento delle orecchie, la rotondità degli occhi, il colore degli occhi, il naso, narici, eccetera, denti, prognatura, cioè le caratteristiche sono molte. E poi dopo ovviamente il giudice sente, ascolta la costruzione attraverso la mano del cane per arrivare agli angoli, perché sono fondamentali alla coda, all'inserimento della coda e alla schiena, quindi il rocheback e in questo caso si viene messo e viene valutato da varie angolazioni anche per il layback che è questo. Ovviamente fatta questo tipo di valutazione il cane deve comunque, il Bulldog francese ha un'andatura particolare e quindi viene fatto anche passeggiare avanti e indietro proprio per la valutazione davanti e dietro del suo movimento. E questa è una valutazione molto importante perché fa sì che, per esempio, il nostro club inserisce in tutta una serie di, comunque sia di regole, eccetera, che sono prese, come dicevo, dall'ENCI e dall'FC, una serie di valutazioni che non sono solo fisiche, in questo caso ovviamente come si parlava di costruzione, eccetera, ma sono anche, riguardano anche il carattere, quindi la selezione deve essere assolutamente fatta per carattere, per soggetto e per salute. Quali sono le caratteristiche caratteriali? Allora, il Bulldog francese è un cane meraviglioso, nel senso che è da dipendenza noi diciamo, perché è un cane molto dolce, è adattissimo ai bambini, è amante comunque della casa, del divano, delle persone, eccetera, degli altri cani, ma è anche un cane molto vispo, molto sveglio, quindi ama fare passeggiate molto lunghe, ovviamente ad un'andatura perché, come vedete, ha una costruzione particolare, ha queste gambine basse, eccetera, e soprattutto è brachicefalo, quindi bisogna fare attenzione alla respirazione, quindi al caldo, eccetera, quindi bisogna avere tutte delle accortezze che ovviamente l'allevatore generalmente dice al nuovo proprietario, eccetera, eccetera, si confronta. È un cane vispo, attento, è un cane che recepisce molto bene, intelligente, quindi ecco, è un po', ecco perché dico che è da dipendenza, perché poi in realtà ha questo sguardo da bambino che ti rapisce completamente. E idem per la salute, anche per la salute, questa è una situazione abbastanza particolare, nel senso che dovremmo entrare proprio nello specifico, perché essendo brachicefalo ha bisogno di tutta una serie di accortezze e anche soffre di alcune patologie per cui i genitori generalmente devono essere controllati e testati, proprio per fare in modo che la sua vita sia più lunga e più felice. Per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre per la prossima puntata. Ciao! Ciao! Grazie.